Ancora a silenzio dalle parti di Via delle Olimpiadi, nessuna novità concreta, nessuna notizia ufficiale per quanto riguarda il futuro della Pistoiese. Fra i tanti scenari possibili che potrebbero o che addirittura si sarebbero già dovuti presentare, per ora tutto tace. E i tempi stringono, visto che siamo quasi a giugno. Quello che è noto è che continua il lavoro dei principali protagonisti per cercare una soluzione, visto che il presidente Orazio Ferrari resta fermo sulla sua decisione di lasciare il club. Una situazione che non può che preoccupare gli addetti ai lavori, ma anche i tifosi che ancora non sanno quale sarà la fine dei colori arancioni. Se si può ipotizzare ad un singolo nuovo arrivo come patron della società, oppure, come proposto da alcuni, virare sulla nascita di una polisportiva. Pista che non sarebbe impossibile, ma molto complicata nel momento attuale. E ancora se si apriranno le porte per una riammissione in Serie C o di un ripescaggio. Sta di fatto che attualmente si ripartirebbe dalla Serie D. Continuano gli incontri fra il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e la Holding Arancioni, con in testa Andrea Bonechi, presidente di Missionario. E qualcosa di certo su cui ripartire è il sostegno da parte dell'azienda Fabo di Larciano, con il titolare Maurizio Fagni, che già negli ultimi mesi si era riavvicinato alla Pistoiese come sponsor, ma che potrebbe anche aumentare il proprio impegno. E inoltre la certezza di poter contare su un supporto dello sponsor ufficiale da ben 27 anni dell'olandesina. La Vannucci Piante, con Vannino Vannucci, nonostante la scadenza a giugno dell'accordo, è pronta a continuare ad essere a fianco degli arancioni.